Coop è cooperativa di consumatori. Ha come primo obiettivo quello di tutelare gli interessi economici, la salute e la sicurezza delle persone. Segue gli stili di consumo e rinnova costantemente la sua offerta per soddisfare i bisogni di tutti. Per questo nascono i prodotti Coop, per rispondere alle esigenze più diverse dei nostri soci e clienti, dalla più semplice alla più specifica. In questi prodotti ci sono tutti i nostri valori, quelli che ci guidano nelle nostre scelte. Sicurezza, convenienza, bontà, etica, trasparenza, rispetto dell'ambiente. Vogliamo anche valorizzare le eccellenze produttive italiane e portiamo nei nostri punti vendita prodotti provenienti dalle filiere locali, interamente controllate da Coop, dalla raccolta nei campi all'alimentazione degli animali, fino al consumo. Solo così il prodotto Coop riesce ad essere proprio come lo vuoi tu. Sicuro, buono e conveniente.